Rumeni ubriachi residenti a Gela arrestati dalla squadra mobile di Ragusa mentre stavano appiccando un incendio boschivo sulla strada provinciale Vittoria Scoglitti. Le manette sono scattate per Vlad Panainte di 29 anni e Marion Bodgan Anastasa di 31. È stata una segnalazione di un cittadino alla volante del commissariato di polizia di Vittoria che ha permesso agli agenti di cogliere in flagranza i due che hanno anche aggredito i poliziotti per tentare di fuggire. I due rumeni dopo una notte in discoteca, affermano gli inquirenti, hanno innescato ben otto focolai al fine di dar fuoco ai terreni coltivati. La polizia ha spento alcuni focolai mentre per gli altri è stato necessario il lavoro dei vigili del fuoco. Il GIP ha convalidato gli arresti applicando la misura cautelare in carcere. L'accusa è di incendio boschivo, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Agli investigatori hanno detto di aver appiccato gli incendi per gioco in quanto ubriachi. L'arresto è venuto la notte tra sabato e domenica scorsi lungo la strada provinciale 31 nei pressi della Baia Dorica e da poche decine di metri dalla discoteca Sesto Senso, ma è stato reso noto solamente questa mattina. Gli agenti hanno anche recuperato gli accendini utilizzati per appiccare i focolai. Nei pressi dell'incendio si sono vissuti attimi di panico. I proprietari di alcune automobili parcheggiate, nonostante le fiamme fossero già molto vicine, sono saliti a bordo delle loro vetture per metterle in salvo. Gli investigatori, grazie alla piena sinergia con i vigili del fuoco, hanno accertato che si trattava di un incendio boschivo perché le fiamme erano suscettibili ad espandersi sulle aree arborate, cespugliate e coltivate a foraggio, in particolare grano, comprese le infrastrutture antropizzate poste all'interno delle aree. Gli agenti, dalla squadra mobile di Ragusa, agli ordini di Antonino Ciavola, hanno accertato, come dicevamo, la presenza di otto punti di innesco.